Motivare alla competizione e potenziare il lavoro di squadra. Questi gli obiettivi delle Olimpiadi Nazionali Asso della Grammatica giunte alla quinta edizione. La gara, unica nel suo genere in Italia, si distingue per l'aspetto ludico che unito agli strumenti didattici rappresenta una motivazione forte allo studio della materia. Gli studenti infatti si sono sfidati a un gioco da tavolo, confrontandosi su azioni logiche per potenziare la capacità intuitiva e mettere alla prova le proprie emozioni. La sfida si è svolta a Catania, tra le tante scuole provenienti da tutte le regioni d'Italia. Anche il Molise ha partecipato con gli studenti della scuola primaria Scarano, che si sono distinti per capacità e merito, conquistando il primo posto della categoria mini. Accompagnati dall'insegnante Maria Adelia Spallone e dai genitori, gli alunni delle quinte A e B hanno raggiunto la Sicilia in aereo per gareggiare contro le squadre dei colleghi di Grosseto, Reggio Calabria, Roma, Caserta e Ragusa. 1460 i quiz di grammatica presentati ai giovani partecipanti, riguardanti la morfologia, la sintassi e tanti altri elementi della lingua italiana. Chi è l'asso? Questo è il titolo del gioco che ha dato la vittoria a Ludovico Di Lisio, Luca Iaconianni, Camilla Casertano, Michele Di Gregorio e Francesca Mignogna. Oltre a una grande soddisfazione, gli studenti hanno portato a casa una coppa e una targa ricordo che andranno ad arricchire la bacheca della scuola e una medaglietta consegnata a ciascuno di loro. Il merito va anche alle loro insegnanti, Patrizia Petrozzi, Raffaella Spallone e Alessandra Fanfarillo e alla preside della scuola, Angelica Tirone, che hanno saputo incoraggiare e sostenere i piccoli allievi in una competizione così importante per loro. La parola ai bambini, diceva Gianni Rodari, ricordando quanto è importante restituire le loro occasioni per esprimersi attraverso la lingua e diversi modi di usarla, con gioco e immaginazione.